Un nuovo capitolo della carriera da riempire altre pagine del proprio libro da scrivere possibilmente con successi, record e maglie azzurre indossate. Ci spera, ci crede e se lo augura Francesco Fortunato che si appresta a fare il suo esordio nella nuova stagione dopo un 2017 ricco di soddisfazioni in cui ha migliorato i suoi limiti in tutte le distanze in cui si è cimentato e ha preso parte anche ai mondiali senior di Londra. Storia vecchia in ogni caso, quella nuova comincerà ufficialmente sabato ai campionati italiani assoluti al coperto di atletica leggera in programma nel fine settimana al pala indoor di Ancona. Il 23enne marciatore andriese sarà impegnato sui 5.000 metri distanza in cui ha vinto il titolo assoluto sia nel 2016 che nel 2017 sulla stessa pista. Chiara l'intenzione per il portacolori delle fiamme gialle di confermare il tricolore e collezionare, il terzo successo di fila sarebbe il quinto titolo assoluto della sua carriera considerando anche quelli vinti sui 10.000 metri l'aperto e nella 20 chilometri su strada. Sta per cominciare dunque il nuovo anno per Francesco Fortunato. La forma non è eccellente, è un po' in ritardo di condizione rispetto all'inizio delle passate stagioni per colpa di qualche piccolo topo nella preparazione ma avendo già in tasca la qualificazione per i campionati mondiali a squadre di marcia in programma dal 5 al 6 maggio a Taikang in Cina ha la possibilità di allenarsi con calma e crescere dal punto di vista atletico proprio per quel prestigioso appuntamento. Di sicuro proverà ugualmente a far su ancora una volta il tricolore sui 5.000 metri. L'obiettivo numero uno della stagione per il marciatore Andriesi, è inutile nasconderlo, è quello di partecipare agli europei su pista della prossima estate a Berlino in calendario. Dal 7 al 12 agosto c'è tempo in ogni caso per pensare alla prestigiosa rassegna continentale. Fortunato vuole concentrarsi sull'attualità e sulla prova in programma sabato pomeriggio a partire dagli ore 15.50. Ci sarà un Andriese ai nastri di partenza che punta con decisione al gradino più alto del podio.